Amici di Fanner, appassionati di Lega Calcio A8, ben ritrovati dal circolo sportivo della Stella Azzurra per la gara tra Roma Calcio A8 e Gruppo Progetteam Immobiliare, valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, Roma Calcio A8 in avanti, ora sul secondo palo, Monteano esce male, la porta è vuota, Cichella supera il portiere, il tiro deviato, calcio d'angolo, pallone, preferisce servire Cichella invece a Chianese, rosso in mezzo deviato, Marinelli, ottimo il controllo, tiro in porta diretto, la palla finisce alta di poco, occasione per il gruppo Progetteam, favorisce l'intervento di Goletti, sale di intensità ora il match, Seferi si accentra, prova il sinistro, Monteano devia in angolo, sarà ancora tiro dalla bandierina per la Roma Calcio A8, corto per Cichella che difende il pallone dall'attacco di Ottobrini, se ne va molto bene il numero 8, sempre Cichella col destro, in due tempi pericolosamente, Monteano, carica il destro, lo prova, completamente sballato con un assist per Oliva, dal limite dell'aria, ancora Chianese, che svirgola, e poi col destro c'è il gol, al termine di una serie infinita di rimpalli, la Roma Calcio A8 si porta in vantaggio al 22esimo minuto del primo tempo, Marinelli, per Piras, contrastato, favorisce comunque l'intervento di Esposito che va in porta, Goletti con i pugni, mette in calcio d'angolo, serve Cichella al cerchio di centrocampo, sempre Cichella, supera Negro, fa col destro deviato, palla che finisce in rete, 2-0 per la Roma Calcio A8, che raddoppia con Cichella, una giocata difensiva di Ugolini, che ha sventato un ottimo contropiede per la Progetim, Pacchiarotti, Cichella ha un po' di spazio per il tiro, lo prova, e c'è il gol del 3-0, chiude la partita Cichella, con Esposito, Seferi in area di rigore, va giù, calcio di rigore per la Roma Calcio A8, scorretta la trattenuta, parte Seferi, col sinistro spiazzato Monteano, il gol del 4-0 per il numero 7 che trova anche il suo settimo gol stagionale, non si capiscono i ragazzi in maglia rossa, Seferi, carica il sinistro e c'è il gol del 5-0 per la Roma Calcio A8, 5 secondi alla fine, Esposito non controlla il pallone, fischia l'arbitro, vince la Roma Calcio A8, che con questo 5-0 mantiene intatte le speranze play-off, tutto da rifare invece per il gruppo Progetim volenteroso, ma che rimane ancorato al quindicesimo posto in classifica.